Buongiorno a tutti, buona Pasqua. Oggi è un giorno speciale per Occhiobello, il primo giorno della campagna vaccinale nel nostro territorio. È con grande soddisfazione che posso annunciare che sta procedendo tutto bene, le persone convocate stanno arrivando molto regolarmente, non ci sono stati problemi, il personale dell'USL è qui pronto, l'accoglienza è stata davvero fantastica, quindi sono molto soddisfatta che finalmente anche Occhiobello possa partecipare in prima persona alla campagna vaccinale che porterà fuori da questo incubo del coronavirus tutto il nostro comune, tutto il nostro paese, tutta l'Europa e tutto il mondo, spero. Quindi grazie, buona Pasqua a tutti, questa è una Pasqua davvero speciale. Buongiorno a tutti, innanzitutto buona Pasqua. Sono dottoressa Federica Fienzi, sono il direttore dell'Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda Cicco e Polesana. Niente, volevo essere ovviamente vicino all'inaugurazione di questo nuovo centro di popolazione che è il quinto praticamente all'interno del distretto 1 che si integrerà agli altri e ovviamente l'attivazione di questo centro di vaccinazione e popolazione è necessario proprio per avvicinarsi sempre più alla popolazione e sensibilizzarlo maggiormente a questa importante campagna di vaccinazione. Io spero ovviamente che tutto il territorio reagisca favorevolmente per poter accedere senza nessun problema, anzi è un invito perché è necessario vaccinarsi, è necessario proteggersi e prevenire. Quindi ovviamente io non posso che non credere nella vaccinazione che è una mission del mio servizio e della mia azienda. Quindi auguro sia a tutti gli operatori che si torneranno e lavoreranno all'interno di questo centro di vaccinazione di dare il massimo e che anche la popolazione reagisca attivamente a questa campagna di vaccinazione. Un augurio a tutti e spero appunto che come ho visto adesso dall'inizio tutto è andato bene e spero che prosegua favorevolmente il tutto. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, sono Lorenza Alberghini, l'assessora alle politiche sociali del Comune di Occhiobello. Sono orgogliosissima questa mattina di essere qui all'apertura del centro vaccinale. È stato un lavoro intenso per riuscire ad aprirlo, per riuscire ad organizzare. Abbiamo ricevuto dalle istituzioni l'elenco dei vaccinandi e ci siamo occupati delle chiamate e la popolazione ha risposto veramente con partecipazione, con consapevolezza. E fondamentale è stato l'aiuto dei nostri volontari. Quindi vorrei spendere una parola per i volontari perché si sono spesi senza nessuna titubanza, senza nessun dubbio e anche in un giorno di festa come oggi sono assolutamente tutti pronti ad aiutare e a sostenere i cittadini. Per cui speriamo che sia di buon augurio per uscire da questa situazione. Buongiorno a tutti, buona Pasqua, come mi associo agli auguri di buona Pasqua, come ha già fatto chi mi ha preceduto. Oggi è un giorno importante per Occhiobello, per questo volevo anche ringraziare il sindaco della collaborazione che ha creato le condizioni per dare questa opportunità alla comunità di Occhiobello e dintorni di poter essere vaccinati nel loro territorio. Diventa appunto un'opportunità perché diventa agevole anche l'accesso e le persone si sentono sicuramente anche più, stimolate ad effettuare la vaccinazione. Un appello per tutti coloro che avranno modo di ascoltare, vaccinatevi. Questa è la strategia per superare questo momento critico che ormai ce lo trasciniamo da più di un anno ed è l'unico, l'unica, l'unica strategia. Ecco questo, vaccinatevi.